Ciao, buonasera a tutti, so che questa cosa che vi sto per dire vi farà rimanere male, però io vi chiedo, fidatevi di me, fidatevi di me di quello che vi sto dicendo. C'è qualcuno che sta venendo qua a Trieste, non parlo di qualcuno, ma parlo di centinaia e centinaia di persone che vogliono far venire qui e rovinare l'obiettivo a tutti. Noi abbiamo annullato la manifestazione di domani e quella di sabato, l'appuntamento col governo rimane, ma non venite qui perché io non voglio mettere a repentaglio la vostra incolumità. C'è qualcuno che non vede l'ora di approfittare di questo per dopo dar tutta la colpa al coordinamento 15 ottobre e bloccare tutte le prossime manifestazioni. Io vi chiedo di fidarvi di me, vi siete fidati fino adesso, fidatevi avanti. Io non sono qui per appuntarvi un bagno di nessun tipo, non ho nessuna pressione o la preoccupazione per voi, per le vostre famiglie, per chi vuole manifestare pacificamente. Rimanete a casa vostra, perché avrò io nelle piazze vostre nei prossimi giorni. Guardi, guardate, farò io questa cosa, la faccio volentieri. Non muovetevi da casa, non muovetevi, non venite a Trieste perché è una trappola, è una trappola grande e grossa. Non caschiamo nella trappola, per cortesia, fidatevi di me, vi voglio bene.